Vediamo un po' delle questioni legate alle politiche sociali, ai servizi sociali, un po' di dati rispetto ad una attività importante che pure questo ambito, questo settore ha svolto in questo ultimo periodo. Tra l'altro, consentitevi, se no lo dimentico sempre, poi mi dispiace quando la telecamera è già spenta. Tutta questa attività di distribuzione dei pacchi è stata resa possibile da una collaborazione ampia, poterosa che l'amministrazione comunale ha avuto da parte di tutta una serie di associazioni del volontariato. Non sto qui a nominarle perché poi succede che dimentichi qualcuno e poi sembra che quel qualcuno non sia nel cuore dell'amministrazione pubblica, del sindaco, dell'assessore. Allora li ringrazio tutti, li ringrazio tutti per il supporto che ci hanno dato in questi mesi, in queste settimane, che stanno continuando a darci e grazie a loro davvero è stato possibile dare assistenza a tantissima gente. Vi voglio dare un pochettino i dati del mese di aprile, dove c'è stato un intervento per quanto riguarda i beni di primo supporto, quindi i beni di genere alimentare, abbastanza importante. Si registra una spesa nel mese di aprile di circa 150.000 euro, 149.982 a voler essere precisi. Quindi un importo abbastanza significativo che ci ha consentito di riconoscere a 924 nuclei familiari il beneficio dei buoni pasto. Effettivamente poi i buoni realmente erogati sono 1736 perché un singolo nucleo familiare ha avuto in più fasi, in più step, il riconoscimento dei buoni. Quindi i nuclei sono 924, ma i buoni pasti o effettivamente erogati sono 1736. Per quanto riguarda invece i pacchi alimentari, 575 sono stati i pacchi consegnati, i beneficiari di pacchi nel mese di aprile, 710 i pacchi realmente distribuiti. Quindi dei numeri importanti. Lo dico, lo voglio ripetere per l'ennesima volta, abbiamo fatto il massimo sforzo per poter aiutare tutti. Mi è arrivata qualche doglianza, qualche recriminazione da parte di qualcuno che pur versando in una situazione di bisogno, di necessità, poi alla fine ha visto rigettata la sua domanda. Voglio dire a questo cittadino, a questo amico che aveva manifestato questa sua lamentazione, questa sua doglianza, che ciò non è stata causata da una cattiva volontà dell'amministrazione, ma da una serie di regole e di disposizioni che sono stati posti dai livelli istituzionali superiori. Quindi se alla fine si dice che chi ha già un beneficio non può essere destinatario del pacco, piuttosto che del buono pasto, è chiaro che quel beneficio non consente a quella famiglia, parlo del reddito di cittadinanza, piuttosto che innennità di disoccupazione. È chiaro che parliamo di situazioni non floride, comunque situazioni in cui c'è un nucleo familiare che si barcamena in mille difficoltà quotidianamente, però l'essere titolare di quel beneficio oggettivamente era motivo stativo perché noi potessimo riconoscere a quel nucleo familiare un ulteriore beneficio, quindi o il buono pasto, piuttosto che il pacco alimentare. Quindi rispetto a questi cittadini non una cattiva volontà o di discriminare nessuno per l'amor del cielo, per l'amor di Dio, ma se non è stato possibile perché c'erano motivi ostativi di carattere superiore che non potevamo assolutamente eludere. Vi do anche il dato dei primi dieci giorni di maggio, perché questa attività di supporto continua e quindi anche nel mese di maggio 204 buoni pasto sono stati già erogati i primi dieci giorni di maggio, dico bene, 14 pacchi alimentari consegnati. Quindi questa è un'attività che prosegue. Tra l'altro continuiamo ad avere richieste di sussidio, di aiuto, di supporto, di sostegno da parte di tanti, anzi tantissimi cittadini. L'amministrazione comunale credo in questa settimana riaprirà nuovamente il termine per la presentazione delle domande, proprio perché in questo momento non bisogna far sentire nessuno escluso, nessuno lasciato solo. Quindi c'è in maniera sempre crescente un numero di cittadini che per non essere pratici con questi strumenti informatici o per varie ragioni, non hanno presentato domanda e quindi per loro si vuole assolutamente riaprire i termini e quindi in settimana vi sarà un provvedimento dall'amministrazione comunale in questo senso. Il decreto crescita prevede anche tutta una serie di stanziamenti per i comuni. Avete sicuramente sentito dalle cronache giornalistiche, 3,5 miliardi di euro per i comuni. Che vi devo dire cittadini? Noi aspettiamo che questi soldi arrivino. Certamente non voglio in questo momento rivolgere critica politica ad alcuno, men che meno i nostri governanti, questa è una comunicazione istituzionale e quindi le valutazioni politiche le facciamo in altra sede. Speriamo che siano tempestive, speriamo che queste erogazioni, che questi trasferimenti possano essere utili ad offrire a tutti i cittadini un supporto, un ausilio in tempi rapidi. Sicuramente le cronache degli ultimi giorni raccontano molti ritardi per quanto riguarda i bonus dei 600 euro, molti non hanno ancora avuto, o la Cassa Integrazione Inderola, che pur sventolata non è arrivata. I proclami sono tanti, non vorremmo che questo fosse un ulteriore proclamo. Aspettiamo il decreto. Si dice che entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto, che come detto dovrebbe avvenire nella giornata di lunedì, ci dovrebbe essere un trasferimento di importi pari al 30% di quelli spettanti a ciascun comune. La parte residuale l'altro 70% successivamente. Naturalmente il criterio che hanno individuato il governo è per le amministrazioni comunali, soprattutto del centro-sud, abbastanza penalizzante. Nel senso che per quanto riguarda i benefici alimentari, l'indice che si era individuato, il criterio per la ripartizione di questi fondi, era l'indice di povertà. Quindi in comuni del centro-sud, dove questo indice è abbastanza alto, prendendo a riferimento quell'indice, le elargizioni contributive economiche per i beni alimentari era abbastanza generosa. Purtroppo per questi ulteriori aiuti, il criterio di riparto dei fondi non è l'indice di povertà, ma le mancate entrate registrate al 31 dicembre del 2019. Questo significa che in questa situazione vengono avvantaggiate sicuramente le aree del centro-nord, dove più che da noi nel Mezzogiorno d'Italia insistono attività produttive, società, imprese, e quindi vi è un gettito maggiore per l'erario in quelle aree, da noi dove, ahimè, purtroppo queste attività sono sempre meno, si racconta un gettito inferiore rispetto a quelle delle aree del centro-nord. E avendo preso a riferimento quel parametro, è evidente che in questi trasferimenti di questi soldi le amministrazioni del centro-nord risulteranno essere avvantaggiate. In ultimo, ma non in ultimo,